L'omofobia in Italia nel 2023, cause e conseguenze L'Italia è un paese con una lunga storia di discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ+. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, l'omofobia è ancora un problema diffuso nel paese. Cause dell'omofobia in Italia L'omofobia in Italia è radicata in una serie di fattori, tra cui Fattori culturali, l'Italia è una società tradizionalmente cattolica e la religione ha spesso svolto un ruolo importante nell'oppressione delle persone LGBTQ+. Fattori sociali, l'Italia è una società patriarcale e l'omosessualità è spesso percepita come una minaccia alla mascolinità tradizionale. Fattori economici, l'omofobia può essere un modo per giustificare la discriminazione e la violenza contro le persone. LGBTQ+, che spesso si trovano in una posizione di minoranza economica. Conseguenze dell'omofobia in Italia L'omofobia ha una serie di conseguenze negative per le persone LGBTQ in Italia, tra cui Discriminazione Le persone LGBTQ e sono spesso discriminate sul posto di lavoro, nell'istruzione e nell'accesso ai servizi. Violenza Le persone LGBTQ e sono spesso vittime di violenza fisica, verbale e psicologica. Salute mentale L'omofobia può avere un impatto negativo sulla salute mentale delle persone LGBTQ+, aumentando il rischio di depressione, ansia e suicidio. Progressi compiuti in Italia Negli ultimi anni, l'Italia ha compiuto alcuni progressi nell'affrontare l'omofobia. Nel 2016, il Paese ha approvato una legge che consente alle coppie dello stesso sesso di registrare la loro unione civile, ma questa unione non ha gli stessi diritti e privilegi del matrimonio tra persone di sesso opposto. Inoltre, nel 2022, l'Italia ha approvato una legge che vieta la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Tuttavia, questi progressi sono ancora insufficienti. L'Italia ha ancora bisogno di fare molto per combattere l'omofobia e garantire i diritti delle persone, LGBTQ+. Cosa può essere fatto per combattere l'omofobia in Italia? Per combattere l'omofobia in Italia, è necessario un approccio a più livelli che includa Educazione È importante promuovere l'inclusione e la tolleranza nei confronti delle persone LGBTQ e nelle scuole e nei media. Legislazione È necessario approvare leggi che proteggano le persone LGBTQ e dalla discriminazione. Cambiamenti culturali È necessario promuovere un cambiamento culturale che accetti e valorizzi la diversità. Solo attraverso un impegno a tutti i livelli, l'Italia potrà costruire una società più inclusiva e rispettosa delle persone LGBTQ+. È necessario approvare le persone, l'Italia potrà costruire una società più inclusiva e rispettosa delle persone LGBTQ5. E' necessario derrotare lo questo tipo di rispettosa delle persone che 80% di batteri, è necessario un impegno a tutti i livelli che accettano 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 a tutti i livelli che ci sono più diversi. Grazie a tutti